All'interno delle quote altimetriche abbiamo la possibilità di inserire più valori di quota. Provo ora a inserire sul solaio di questo edificio una quota. Questa quota è la quota riferita all'estradosso del solaio. Ora, se vado a selezionare la quota e apro la finestra impostazioni, posso andare ad attivare all'interno del pannello contenuto nel testo l'opzione Multilinea. L'opzione Multilinea mi permette di mantenere eventualmente la quota che già è visualizzata. Volendo posso andare a inserire un'informazione per identificare quella quota. E poi posso eventualmente andare ad aggiungere un ulteriore valore di quota. Una volta inserito il testo all'interno del menu, ho la possibilità di andare a selezionare il testo automatico da inserire. Fatta questa operazione, confermo con ok, immediatamente all'interno della quota vengono riportati due valori. Uno relativo alla quota del piano e uno relativo alla quota dell'intradosso del solaio.